Questa è la Zanzara e voglio ringraziare Zanzara Meme, credo che si chiami così, che ha regalato a questa disgraziata redazione, compreso te Parezzo, questa maglietta qui che io indosso, molti mi possono vedere nella webcam su internet. A me non hanno regalato niente, quindi va tra quel paese. Hanno regalato anche a te. Allora sono brave persone, ma io ve lo siete intascati. Amico mio. Io intanto voglio i diritti, perché la parola amico mio l'ho inventata e portata io qui. Questo è vero, anni fa, sì, sì. Tantissimi anni fa, mutuata io stesso da... Te lo ricordi com'era? Amico mio! Amico mio, no! No, no, non era così adesso questa cosa. Amico mio, era Lenzi, sì, è Lenzi. Amico mio! Poi è stata cambiata nel tempo. È stata cambiata nel tempo, però è mia e quindi chiederò immediatamente... I diritti a questi ragazzi qua che hanno fatto la maglietta, non ho capito, amico mio, con la mia faccia dietro. Volevano pure, hanno chiesto il permesso per la mia faccia. Ho detto, fate, 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 ti fai pagare, ti fai pagare per tutto. No, per tutto. Aspetta, aspetta, calma, calma. Aspetta, calma, calma.